Ciao a tutti, io sono Mattia, in questa serie di video andrò a mostrarvi i miei allenamenti in questo caso in particolare andremo a fare un workout di chiorata e spinta abbiamo tutto, iniziamo! Possiamo iniziare, consiglio prima di partire con l'allenamento di fare almeno quei 5-10 minuti di riscaldamento in particolare andate a riscaldare bene le articolazioni che andrete ad usare durante gli esercizi in questo caso consiglio bene le spalle, i gomiti e i polsi negli esercizi di oggi andremo a fare un allenamento diviso per 8 esercizi in 3 round senza riposo adesso possiamo anche partire con l'allenamento ok, iniziamo con il primo esercizio che sarà una super serie di muscle up, dips e trazioni andiamo! Agh! 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 l'ultima ok non male come pochino esercizio adesso passiamo un po' di pesistica andiamo con dei deadlift ovvero stacchi iniziamo deadlift andati togliamo un po' di peso e adesso facciamo dei rematori i gotti uh tosta ok adesso ci spostiamo agli anelli andremo a fare dei dips agli anelli se non riuscite usate le parallele adesso ci spostiamo ai piegamenti affondati agli anelli dovrete usare un rialzo occhio quando fate questi alle spalle siete in una posizione molto vischiosa ok adesso andremo a fare l'ultimo esercizio di tirata che comprenderà delle frazioni a prese in berza più la massima tenuta in questa posizione alla sbarga ok ultimi due esercizi in super serie scultura agli anelli e piegamenti dell'altriere a terra l'altriere a terra ok allora questo era soltanto un giro di tre l'allenamento era di livello medio avanzato per consigli suggerimenti sugli esercizi scrivetemi pure nei commenti quest'allenamento da mattia è tutto all'appogasso ciao 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 ciao